Dira, perché è uno dei frequentatori più assidui del tuo salone, frequentato da oltre mezza squadra, quindi quasi tutta la squadra viene da te a curare il look, ti chiedo subito di che Dira, magari lo vediamo anche in foto dopo un taglio, intanto quante volte a settimana viene? Una volta a settimana, taglio sempre pre partita prima di ogni ritiro. Eccolo qua, ecco qua la foto taglio pre partita, c'è una sorta di rito scaramantico perché, dillo tu, vai. Lo diciamo, non lo diciamo, vabbè, comunque ogni volta che viene poi sul tabellino dei marcatori è sempre presente, presente da me e presente sul tabellino dei marcatori insomma. Quindi è un rito che deve andare avanti fino a fine campionata, ci auguriamo proprio di sì per forza. Dira, capocannoniere, è un bar in testa alla classifica, chiaramente anche prima della convocazione in Marocco, è passato da te, fa gol anche lì. E poi si è tagliato i capelli in Marocco e non ha fatto gol. Nelle amichevoli. Adesso, non so, lascio a voi. A questo punto ti porterà in Qatar con lui. Ma io me lo auguro, io ci andrei con tutto il cuore, anche perché ne abbiamo parlato anche di questo, abbiamo scherzato un po' su, proprio su questa battuta qui. Su Walid Khedira, vediamo altre foto perché tra poco le vedremo tutte. Questo è Walid Khedira, è un spaccatutto amico mio, proprio prima della partenza per l'avventura con il Marocco. Folo Ruscio, la chiudiamo così. Lui mi han detto che viene addirittura due volte a settimana. Martedì e venerdì. Addirittura, che fa? Gli diamo una bella spuntatina ogni volta, però comunque ci divertiamo. È un gruppo bellissimo. Di Walo mi hai chiesto che tipo di persona fosse e io ti posso garantire che è un ragazzo umilissimo, è un bravissimo ragazzo. Ho avuto anche il piacere e l'onore di conoscere il papà proprio la settimana scorsa. Sono una famiglia per bene, molto umile. Davvero Walo, io lo chiamo Walo. E' il classico esempio di quella persona che se vuole raggiungere un obiettivo lo fa nel migliore dei modi, sacrificandosi e impegnandosi costantemente. Lo abbiamo visto all'inizio, prima di questa stagione, allenandosi qui in città a Bari prima del ritiro, con sedute supplementari anche durante il ritiro di Roccaraso, punto di vista atletico, tattico, tecnico. Quindi si è preparato nel migliore dei modi e questo ha valore a quello che dicevi tu Nicola. Andiamo avanti perché Foloruscio fa coppia fissa con un altro calciatore, Eddie Salsedo. Dopo, nella prossima foto, li vedremo anche insieme. Vi chiedo anche che rapporto sia instaurato con loro. Credo che il Salsedo forse sia anche un po' il più particolare, quello un po' più pretenzioso dal punto di vista degli appelli. Salsedo, Eddie è davvero un ragazzo fantastico, adesso sto aspettando che mi aggiunge su FIFA, perché inizieremo a giocare anche su FIFA insieme la sera, ci facciamo una partita insieme. E li vediamo, attenti a quei due. Sì, coppia fissa, io poi ho le caramelle al mio negozio ed è un rito che loro mangiassero le caramelle, ma soprattutto Eddie è golosissimo come me. L'importante è che mantengono la linea, alle foto, ai tagli dei capelli dei calciatori del Bari, così le commentiamo insieme. Intanto ti chiedo come è nato anche questo rapporto con i calciatori, quando è iniziato a portare nel tuo salone i calciatori bianco-rossi? Allora, è iniziato tutto dalla serie D. È iniziato con Nicola Turi, che è ovviamente di Bari, e poi Davide Marfella è stato il PR della mia attività. Perfetto, vediamo qualche altra foto, perché qui vediamo anche il capitano del Bari, Valerio di Cesare. Sì, il capitano, gli ho fatto una bella barba, alla fine ha detto a Walid, che era appena entrato, che qualità! Si è rilassato un po', insomma. Poi spesso sono tagli chiaramente corti, più pratici. C'è qualche giocatore che ti dà qualche noia in più, un po' più particolare, che cerca qualcosina di diverso? Allora, innanzitutto abbiamo trasformato i capelli di Salsedo, perché li abbiamo stirati, sono bellissimi. Io gli ho consigliato di non farlo, invece lui ha detto che non lo ha fatto, ma devo fare la stiratura e abbiamo stirati. Però sostanzialmente sono tutti tagli corti, perché loro amano la praticità sia in campo che fuori, e quindi lavano i capelli tutti i giorni, si allenano anche due volte al giorno, e quindi è giusto che sia così. Così deve essere. Andiamo avanti, perché vedo anche Raffaele Puccino, un altro figo del gruppo. Lui e Frattali sono i belli del campionato, lo posso dire, lo posso dire, sì. Non a caso hai scritto Terzini Fichi e dove trovate? Eh, bravissimo, bravissimo. C'è Elia Caprile anche. Elia, sì, sì, Elia l'ho conosciuto in ritiro, appena l'ho visto entrare, è enorme, cioè è un armadio. Non sembra, ma invece lo è vero. Non sembra, ma vi posso assicurare che abbiamo avuto, o io ho avuto difficoltà a farlo sedere, perché insomma le sue gambe sono lunghissime. Però poi guardiamo avanti ancora con qualche foto, perché vedo anche Gigi Frattali, in questo momento sì, finito indietro nelle gerarchie, rispetto all'ex sua di Elia Caprile, però è un altro tuo fedelissimo. Assolutamente sì. Un buffo un po' più lungo. Se ti devo parlare di Gigi, guarda... Gran professionista. Gran professionista. Io l'altro giorno sentivo Enzo in questa trasmissione, dove diceva che a chi puoi dare la sufficienza in questo Bari? A nessuno. Gigi Frattali oggi, secondo me, è un uomo da nove. Perché? Perché magari non si sa, però io che lo vivo in una maniera un po' diversa, un portiere, un professionista come lui, abituato sempre a giocare 90 minuti, essere messo praticamente come secondo, ma la cosa bella è che lui dice, guarda Nico, Elia è forte, merita di giocare. Il gruppo, questa è la differenza di quest'anno. Sono veramente molto affiatati, sono davvero un gran bel gruppo. E fa onore poi a un portiere esperto, come Gigi. Ne abbiamo parlato prima invece di Raffaele Maiello, Raffaeligno si chiama. Raffaeligno. Su Instagram alla brasiliana, quindi è un altro frequentatore. Poi credo ci sia Ciccio Del Rico, forse. Ciccio è un grande amico, sì. Pedelissimo Ciccio. Ciccio è stato del re. Quello che mi sono sentito con lui e sono andato in ritiro proprio a Roccaraso. Grazie a lui ho fatto i capelli praticamente a tutti. Un po' più pazzerello Del Rico rispetto a lui. Sempre un bravissimo ragazzo. Un grande personaggio.